Questo è vero. Sono un uomo nervoso, spaventosamente nervoso, e lo sono sempre stato. Ma perché pretendete che sono pazzo? La malattia mi ha reso i sensi più acuti, mica me li ha distrutti, logorati. E già avevo l'udito finissimo e tutto ho sentito del cielo e della terra. Anche dell'inferno ho sentito parecchio. Com'è dunque che sarei pazzo? State attenti e osservate con quanto senno, con quale calma sono capace di raccontarvi tutta la storia. Come in principio l'idea mi venne non è possibile dirlo, ma una volta che mi entrò in testa ne fui ossessionato notte e giorno. Un motivo non c'era, la passione non c'entrava per nulla, gli volevo bene al caro vecchietto e lui non mi aveva fatto alcun male. Mai mi aveva offeso, né io volevo il suo oro. Fu per il suo occhio, credo, sicuro fu per quello. Aveva un occhio che pareva un occhio di avvoltoio, azzurro chiaro, con un velo sopra. Ogni volta che quell'occhio si posava su di me mi si gelava il sangue e così lentamente a grado a grado mi misi in testa di togliergli la vita al vecchio e in tal modo sbarazzarmi per sempre dello sguardo di quell'occhio. Ecco il punto, voi mi credete pazzo e i pazzi non sanno quello che fanno. Se mi aveste visto invece, se aveste visto con quanta assennatezza operai, con quanta circospezione, dissimulazione, previdenza. Mai ero stato tanto gentile col vecchio come durante la settimana che precedette l'assassinio. E ogni sera verso mezzanotte giravo la maniglia della porta che metteva nella sua camera e aprivo. Oh, piano, piano. Quando avevo aperto abbastanza per cacciar dentro la testa, facevo passare una lanterna cieca, perfettamente chiusa e perfettamente chiusa, che non lasciasse filtrare un solo raggio e poi affacciavo la testa. Oh, avreste riso a vedere con quale destrezza la facciavo. La muovevo lentamente, con infinita lentezza, per non turbare il sonno del vecchio. Certo ci mettevo un'ora ad introdurla tutta e a spingerla a quanto occorreva per vederlo disteso nel suo letto. Un pazzo sarebbe stato così prudente. E quando avevo cacciato tutta la testa nella camera, cominciavo con cautela, infinita, infinita cautela a schiudere la lanterna che strideva un poco sui cardini. L'aprivo appena il necessario per lasciar cadere un impercettibile filo di luce sull'occhio d'avvoltoio. Sette volte per sette lunghe notti feci questo, a mezzanotte precisa, ogni volta, e sempre trovai chiuso quell'occhio, così che mi fu impossibile compiere l'opera che mi ero proposto. Perché non era lui il vecchio che mi irritava, ma il suo occhio malefico. Quando poi faceva giorno, ogni mattina entravo baldanzosamente nella sua camera e gli parlavo senza scrupolo alcuno, chiamandolo per nome nel modo più cordiale e chiedendogli come avesse passato la notte. Vedete, avrebbe dovuto essere un vecchio molto fine da cume per sospettare che ogni sera, a mezzanotte precisa, io l'osservavo durante il suo sonno. L'ottava notte fu con maggior precauzione del solito che aprì la porta. La freccia piccola di un orologio impiega a muoversi meno di quanto ci impiegò la mia mano. Io non sapevo ancora di poter arrivare a tanto nella sagaccia e potevo appena contenere le sensazioni di trionfo che provavo. Pensate, ero lì che aprivo la porta millimetro per millimetro e lui non aveva il minimo sospetto delle mie azioni, dei miei pensieri segreti. A quest'idea mi lasciai sfuggire una risatina ed egli forse mi udì poiché all'improvviso si mosse nel suo letto come se stesse per risvegliarsi. Voi magari crederete che mi ritirai e invece no. Nella camera c'era nero di pece, tanto il buio era fitto perché per timore dei ladri le imposte venivano chiuse con molta cura e io che sapevo come egli non avrebbe potuto scorgere il varco della porta continuai a spingere questa, sempre più e più. Avevo poi affacciata la testa e stavo già per schiudere la lanterna quando il pollice mi scivolò sul metallo della serratura e il vecchio si rizzò in mezzo al letto urlando «Chi è?». Rimasi fermo in immobilità assoluta e non dissi nulla. Per tutta un'ora non mossi un muscolo e in tanto tempo non sentì il vecchio ricoricarsi. Egli era sempre seduto in mezzo al letto, teso in ascolto, come avevo fatto io per notti e notti a sentire i tarli nella parete. Ma d'un tratto mi giunse un gemito sommesso e io riconobbi che era un gemito di terrore mortale. Non di dolore o di pena, era il suono sordo e soffocato che salza dal fondo di un'anima piegata dallo spavento. Conoscevo quel suono. Per notti e notti alla mezzanotte in punto mentre il mondo dormiva era sgorgato dal mio petto a scuotere con la sua eco terribile i terrori che mi ossessionavano. Dico che lo conoscevo bene, sapevo quel che provava il povero vecchio e per quanto la voglia di ridere mi riempisse il cuore, ebbi pietà di lui. Sapevo che egli era rimasto sveglio da quando aveva avvertito il primo leggero rumore e si era rigirato nel letto. I suoi timori erano andati crescendo. Aveva certo cercato di persuadersi che erano privi di fondamento, ma non aveva saputo. Si era certo detto tra sé, non è nulla, sarà stato il vento nel caminetto, sarà stato un topo, sarà stato un grillo. Sicuro si era sforzato di farsi coraggio con queste ipotesi, ma in vano. tutto era stato vano perché la morte che si avvicinava gli era passata davanti con la sua grande ombra nera nella quale lo aveva avviluppato. Ed era per il funebre influsso di quell'ombra invisibile che egli sentiva, benché nulla vedesse né udisse, la presenza della mia testa nella sua camera. Quando ebbi aspettato a lungo con pazienza infinita che si ricoricasse, mi decisi infine a socchiudere un po' la lanterna, ma tanto poco che era nulla quasi. Lo fici furtivamente come non potreste immaginare e un solo pallido raggio, un filo di ragnatela scaturì dalla fessura per cadere dritto sull'occhio d'avvoltoio. Era aperto quello spalancato così che il furore mi prese non appena l'ebbi guardato. Lo vidi perfettamente, azzurro opaco e ricoperto dall'orribile velo che mi agghiacciava il midollo nelle ossa. E nient'altro all'infuori di esso vedevo della faccia del vecchio, dopo che, come per istinto, avevo diretto il raggio proprio sul punto maledetto. Non vi ho già detto che la pazzia di cui mi ritenete affetto è soltanto un'estrema acutezza dei sensi. Ebbene, ecco che un sordo e intermittente rumore soffocato mi giunse in quella all'orecchio, come il ticchettio di un orologio inviluppato nel cotone. E io riconobbi quello rumore, era il cuore del vecchio che batteva, e come il rullo del tamburo eccita il coraggio dei soldati, quel suono esasperò il mio furore. Tuttavia, seppi ancora contenermi e non mi mossi. Quasi non osavo respirare e tenevo ferma la lanterna col raggio diretto sull'occhio. La marcia infernale del cuore batteva frattanto sempre più forte, si faceva precipitosa e ad ogni istante più alta, più alta. Il terrore del vecchio doveva essere estremo. Il battito del suo cuore diventava sempre più forte, diminuto in minuto. Mi seguite con attenzione. Vi ho detto che ero un uomo nervoso, e lo sono in effetti. Ebbene, quello strano rumore in mezzo al cuore della notte, nel pauroso silenzio di quella vecchia casa, mi riempì di un irresistibile terrore. Ancora per qualche minuto mi contenni, senza muovermi dal mio posto, ma il battito si faceva più forte, più forte. Pareva che il cuore dovesse scoppiare, e così una nuova angoscia mi prese. Se il rumore fosse sentito da qualche vicino, l'ora del vecchio era suonata. Con un urlo spalancai la lanterna e mi slanciai nella camera. Il vecchio non diede un grido, non un grido solo. In un attimo lo tirai giù sul pavimento e gli rovesciai addosso il peso stritolante del letto. Allora, vedendo che avevo compiuto il più della mia opera, sorrisi contento. Tuttavia il cuore continuò per qualche minuto a battere, un battito velato. Ma io non me ne preoccupai. Non si poteva mica sentirlo attraverso il muro. Poi cessò. Era morto il mio vecchio. Risollevai il letto ed esaminai il cadavere. Era rigido, sicuro. Era morto stecchito. Portai la mano al posto del cuore e ve la tenni per alcuni minuti. Nessuna pulsazione. Era proprio morto il mio uomo. Il suo occhio ormai non mi avrebbe tormentato più. Se persistete a credermi pazzo, la finirete una buona volta quando vi avrò riferito le accorte precauzioni che io presi per nascondere il cadavere. La notte avanzava e io mi davo vivamente da fare in perfetto silenzio. E tagliai dal corpo la testa, le braccia, le gambe. Poi tolsi tre assi dall'impiantito della camera e nascosi tutto di sotto. Poi rimisi al loro posto le tavole con tanta perizia e destrezza che nessun occhio umano, neanche il suo, avrebbe potuto accorgersi di nulla. E non c'era niente da lavare, non una macchia di sudicio, non una traccia di sangue. Ero stato ben accorto. Avevo lasciato scolare ogni cosa in un mastello. Erano le quattro quando mi fui sbrigato e ancora faceva buio come a mezzanotte. Intanto che le ore suonavano sentii bussare alla porta di strada. Scesi per aprire, perfettamente tranquillo. Che avevo da temere ormai? Entrarono tre uomini che si dissero con aria soave, ufficiali di polizia. Un vicino aveva sentito gridare, cosicché, sorto il sospetto di un qualche delitto, una denuncia era stata trasmessa all'ufficio di polizia e i tre signori erano stati mandati per visitare il quartiere. Sorrisi. Che avevo da temere? Così diedi il benvenuto ai signori. Il grido di sì me l'ero lasciato sfuggire io sognando. Soggiunsi che il vecchio mio amico si trovava in viaggio. Condussi i visitatori per tutta la casa. Li invitai a cercare che cercassero bene. Infine li portai nella sua camera. Mostrai loro i suoi tesori, perfettamente in ordine, in salvo. Nell'entusiasmo della mia sicurezza presi delle seggiole e li pregai di riposarsi. Io con la folle audacia del trionfo assoluto andai a mettermi proprio sul punto dove si trovava nascosto il corpo della vittima. I poliziotti erano soddisfatti. I miei modi li avevano convinti. Quanto a me mi sentivo stranamente a mio agio. Sedettero i tre e parlarono di cose banali. A tutto io rispondevo con buon umore ma a un certo punto mi sentii impallidire e debbi voglia che se ne andassero. Mi doleva il capo e mi pareva ad avvertire un battito alle orecchie ma quelli se ne restavano seduti e continuavano a chiacchierare. Il battito una specie di tintinnio si fece più distinto e mi diedi a parlare più che potei per non sentirlo ma esso tenne duro e prese un carattere ben definito tanto che infine compresi che non lo avevo dentro alle orecchie. Allora mi feci certo pallidissimo ma mi ostinavo a chiacchierare a voce alta e con sempre maggiore accanimento. Il rumore aumentava sempre. Che potevo fare? Era un sordo e intermittente rumore soffocato come d'un orologio inviluppato nel cotone. Respiravo a fatica. Quanto agli agenti essi non lo sentivano ancora. Parlai più in fretta con maggiore vehemenza ma il rumore cresceva senza tregua. Mi alzai a discutere di sciocchezze da nulla ad altissima voce e gesticolando con violenza. Ma il rumore cresceva, saliva sempre. E perché non se ne andavano quei tre? A grandi passi pesanti misurai su e giù il pavimento come esasperato dalle osservazioni dei miei contraddittori. Ma il rumore cresceva regolare, costante. Signore, il Dio, che potevo fare? Mi agitavo, smaniavo, bestemmiavo, smuovevo la seggiola sulla quale stavo seduto, la facevo stridere sull'impiantito ma il rumore sovrastava ormai tutto. E cresceva, cresceva ancora senza fine. Diventava più forte, più forte e gli uomini chiacchieravano sempre scherzusi, sorridenti. Era possibile che non sentissero. Dio, onnipossente, no! No! E si sentivano, sospettavano e si sapevano e si divertivano al mio terrore. Così mi parve e lo credo tuttora. Ma tutto era da preferire a quella derisione. Io non ero più capace di sostenere quei loro sorrisi ipocriti. Sentii che mi occorreva gridare o sarei morto. E intanto, ecco, lo sentite? Ascoltate, si fa più forte, più forte, sempre di più. Miserabili, gridai, smettetela di fingere. Confesso tutto. Togliete lì quelle assi e lì sotto è il suo terribile cuore che batte.